Pendagli da forca! Non scordatevi di seguire quei cani fetidi di Flavio e Danilo anche sulle pagine social, dove troverete altre curiosità su Bucanieri Celebri, Navi Pirata ed Eventi Storici. Seguite Radio Pirata Podcast su Facebook e Instagram e navigate su libertalia.fm. E ora, buon ascolto! Arrrr! Quattro mesi perché poi tornavano, insomma. Ed era comunque tanto e abbiamo detto cosa? Abbiamo detto e ve lo diciamo che anche nella puntata di oggi sentirete parlare di guerre navali, di pirati, di politici che cercano di estirparli attraverso anche le amnistie di famosi capitani che combattono, insomma, anche di pirati che cercano vendetta. Sembra veramente, come abbiamo detto l'altra volta, la stessa storia, quella della pirateria, che tu la declini nei Caraibi, nei romanzi, nei film. Un pirata sarà sempre un pirata. Senti che bello slogan che ho tirato. Un pirata sarà sempre un pirata e voi potrete sentire questa e altre storie di pirateria non solo qui sulle varie piattaforme, ma anche su libertalia.fm, la nostra isola piratesca digitale dove racchiudiamo tutti i nostri progetti, i nostri deliri, giusto? Sì, 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 ma soprattutto tante belle storie da ascoltare, da leggere. E anzi, mi permetto anche di dire che chi avesse interesse a raccontare qualche storia da divulgare un po' attraverso i nostri canali potrebbe contattarci perché magari quella libertalia potrebbe non essere solo la nostra isola felice dove raccontare i nostri deliri, ma potremmo anche offrirla come isola un porto sicuro per raccontare i deliri anche di qualcun altro. Quindi stiamo reclutando, come una volta si attaccava nei bar, no? Cerco persone per andare nei mari del ghiaccio. Ora invece noi attraverso un microfono più comodamente, con riscaldamento e soprattutto dopo la sigla. Nello scorso episodio, Danilo, se ricordi, ho citato un paio di volte e un tale Mitridate VI re del Ponto. Ora, direi che è arrivato il momento di approfondire un po' questo personaggio perché sicuramente i classicisti in ascolto lo conoscono bene ma la maggior parte dei nostri ascoltatori è un predone dei mari molto più vicino a noi temporalmente. Ora, per spiegare bene l'importanza di Mitridate VI e soprattutto delle tre guerre Mitridate che scatenò contro Roma e l'impatto che queste guerre hanno avuto in tutto il mondo classico come proprio anello di congiunzione tra la tradizione ellenista quella medio orientale, quella romana ci vorrebbero esperti con competenze molto ben al di là delle nostre. Noi ci occupiamo di pirati quindi direi di raccontare la vicenda mediante la versione breve se sei d'accordo. Sì, sì. La versione breve è questa. Un giorno, tale Mitridate VI re del Ponto che è la regione nord-orientale dell'odierna Turchia quella che si affaccia sul Mar Nero un giorno Mitridate si sveglia e decide che odia i romani ma proprio tanto, 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 talmente tanto che tra l'88 e il 63 avanti Cristo per la bellezza di 25 anni decide di dedicare la vita a combattere Roma in ogni modo possibile. Anzitutto bisogna dire che Mitridate aveva sia la capacità strategica che la forza militare adeguata a sfidare Roma il che non era affatto scontato all'epoca quanto poi fosse adeguata lo vedremo. Altra cosa che non gli mancava direi è quel tantino di ambizione appunto per imbarcarsi in un'impresa del genere. Le ostilità si erano aperte con due vittorie di Mitridate conso le forze dei romani nell'88 avanti Cristo prima conso il re di Bitinia Nicomède IV e poi conso proprio un delegato romano tale Manio Aquilio a capo di una delegazione in Asia Minore. L'anno successivo Mitridate decide quindi di continuare questo suo progetto di occupare l'intera penisola anatolica e costituire una sorta di controbilanciamento di potenza nei confronti di Roma. Attaccò quindi la Frigia, la Misia e toccò tutte quelle parti di Asia che erano state recentemente acquisite dai romani e di queste acquisizioni ne abbiamo parlato anche un po' nello scorso episodio. Poi dopo tutta questa serie di vittorie decide di mandare i suoi ufficiali verso alcune province adiecenti e a questo punto lui conquista anche l'inicia, la Cilicia, la Panfilia e il restio della Ioni. Toccando la Cilicia inevitabilmente va a scatenare i pirati e tutta quella tradizione di pirati di cui abbiamo parlato nello scorso episodio e non è che la scatena a caso la scatena come suoi alleati perché da questo momento in poi i pirati Cilici diventano il braccio destro acquatico di Mitridate nella sua lotta con Soroma. Fantastico. A questo punto tra l'altro gli riesce anche un bel colpo gobbo perché lui cattura due grossi nomi della Repubblica Romana. Uno è il procuratore Quinto Oppio e l'altro è il generale Manio Aquilio. Di Oppio ne fa uno schiavo domestico per alcuni anni. Poi pirati e Oppio sono sempre andati. Assolutamente. Seconda battutaccia della season 5. Pensa che mi era venuta in mente ma io l'ho tagliata. Non l'hai detta. L'hai detta te. Bravissimo. Dicevo a Mitridate prende Oppio e non l'Oppio prende Oppio e ne fa il suo schiavo domestico per qualche anno e in questo modo tra l'altro replica una tradizione tipicamente persiana di umiliare il potere rivale. In questo caso lui umilia il potere di Roma mentre Manio Aquilio fa una fine ben peggiore perché Mitridate gli fa bere dell'olio fuso per per sottolineare proprio toccare leggermente e con in punta di penna appunto una metafora per dimostrare quanto i romani fossero avidi. Ecco. Ecco. non appena queste notizie giungono a Roma il Senato è sbigottito e emette una solenne dichiarazione di guerra contro il re del Ponto. Allo stesso tempo Mitridate riceve la dichiarazione di guerra da parte del Senato Romano e sa rabbia pure lui io non capisco perché a sto punto però a questo punto lui dopo aver preso appunto possesso della maggior parte dell'Asia minore dispone in risposta a questa dichiarazione di guerra che tutti coloro liberi o meno quindi sia schiavi sia uomini liberi che parlavano una lingua italica qualsiasi fossero trucidati sul posto. Quindi non solo i pochi soldati romani rimasti a presidio di guarnigioni locali ma anche i civili furono massacrati pensa circa 80.000 cittadini romani ma non solo insomma chiunque parlasse lingue italiche quindi immagina tutte le ex province dell'Asia della Cilicia insomma fu un massacro degno di nota per l'epoca e il re del ponto appariva agli occhi delle popolazioni locali dell'Oriana Turchia e della Grecia non solo come un grande e potente oppositore del potere di Roma ma anche proprio come una specie di liberatore del mondo greco come se fosse una sorta di Alessandro Magno cosa che a Mitridate piaceva parecchio come puoi immaginare visto che lui aveva deciso che doveva essere il non solo l'erede di Alessandro Magno ma anche quello dei grandi condottieri persiani come Ciro il Grande o Cerse insomma insomma il Mediterraneo era sconvolto da una ventata grecista antiromana che portò pure gli Achei sotto la guida di tale Aristione a insorgere ad Atene e nella provincia relativa e unirsi quindi a questa crociata ellenica ellenistica di Mitridate contro Roma e tu mi dirai ma nel frattempo che succedeva tutto sto panico a Roma che faceva intanto noto scusa se ti interrompo che i pirati sono sempre in mezzo a queste situazioni borderline a metà fra nome una battaglia politica di ribellione contro no ma vogliamo riempirci le tasche i pirati sono sempre lì in mezzo che non si sa se è una crociata giusta sicuramente sono sempre in mezzo dove c'è un sacco di casino e mentre c'era appunto tutto sto casino nel Mediterraneo nell'Egeo eccetera a Roma che succedeva beh Roma non come ai giorni nostri era dilaniata da lotte politiche all'epoca all'epoca appunto non quello che succede ai giorni nostri dove tutto è molto chiaro e ben spiegato anche qui però la faccio breve diciamo che i dissidi interni al senato e alla politica romana si risolvono con una mezza guerra civile il cui vincitore della situazione Lucio Cornelio Silla vinse non solo una carica una carica di comandante totale della Repubblica ma anche come dicevamo nello scorso episodio quel famoso diritto di fare la guerra ai pirati in particolare di fare la guerra a Mitridate Silla si riprende subito Atene proprio con un colpo di mano rapido abusa leggermente della popolazione per vendicare l'eccidio dei popoli italici a opera del nemico e per leggermente intendo che chi non era stato ucciso era stato fatto schiavo a questo punto decide di dividere l'esercito romano in due la parte guidata da lui si occupa di sfasciare tutto quello che Mitridate aveva costruito nei Balcani e in Grecia mentre l'altra parte viene spedita in Anatolia a fare più o meno lo stesso e ci manca poco che Mitridate in persona finisca nelle mani dei suoi nemici con una certa paraculaggine a questo punto il novello Alessandro Magno decide di tendere la mano a Silla e magnanimamente porre fine alla prima guerra Mitridatica appunto con un bel trattato di pace in cui accettava sicuramente di buon grado di restare a fare il re del punto e basta conclusa questa prima guerra tu dirai Mitridate aveva imparato la lezione e invece non l'ha imparata per niente perché se no non ci sarebbe stata una seconda guerra Mitridatica questa nasce nell'83 avanti Cristo stavolta con un invito un po' maldesso da parte dei romani perché le truppe romane distanza attorno al ponto e anche qui mi perdonino i classicisti ma sto cercando di farla al più breve possibile le truppe romane distanza attorno al ponto erano guidate da tale Lucio Licinio Murena probabilmente detto Er Murena nella subura che scusa questo era da me ma l'hai detta tu scusa che si era messo in testa appunto di conquistare il ponto e farsi bello a Roma per lanciare magari una promettente carriera politica il problema in questo piano perfetto è che Morena si fece battere sul campo da Mitridate a cui non sembrava vero di avere la scusa per ritornare a fare la guerra ai romani un'altra volta il problema per Mitridate è che riuscì a battere solamente Murena perché venne sconfitto in ogni altra battaglia e quindi decise saggiamente di tornarsene a casa sua dopo aver stipulato un altro trattato di pace trattato di pace che non durò molto a lungo perché da qui in poi nasce tutto quell'altro gran casino che è la terza guerra mitridatica che vedrà emergere una figura molto potente dell'ultima fase della Repubblica Romana che è quella di Gneo Pompeo Magno che in quel periodo sembrava avere qualche grattacapo con i pirati ma immagino che tu voglia approfondire un po' la questione prima faccio una breve introduzione sicuramente anche per farti un po' respirare dalla storia appunto di questo Mitridate che però ringraziamo per tutti i suoi tentativi di guerra contro Roma perché ci dà materiale per le puntate di Radio Pirata Podcast quindi grazie Mitridate sempre dal 2022 e tra l'altro stavolta veramente in questa season noi ci impuntiamo se esce la serie HBO fra un mese Pompeo contro i piedi cioè ci dovete dare qualcosa una royalty perché non è che possiamo raccontare storie voi ci fate i film come Netflix e quindi qualcosina un po' qualche doblone anche un pezzo da otto anche pagati in epoca con i settecenteschi va benissimo ma bando alle ciance parliamo all'angolo blu sempre così perché ormai sono pirata nell'animo però non quello eroico Robin Hood dei Mari no no ma parliamo appunto di all'angolo blu sfidante della pirateria Agneo Pompeo Magno allora di chi stiamo parlando stiamo parlando di un coevo di Giulio Cesare e di un personaggio molti di voi magari avranno avuto modo di studiarlo a scuola molto importante militare e politico romano che fu prima alleato e poi nemico giurato di Giulio Cesare ci fu una guerra molto sanguinosa fra i due Magno nato nel 106 avanti Cristo e morto nel 48 avanti Cristo diciamo che è molto interessante il rapporto che c'è fra Magno e fra Pompeo e Giulio Cesare soprattutto perché i due inizialmente lo citava anche Flavio collaborano in un triunvirato assieme a Crasso quindi in realtà loro sono particolarmente affini e allineati e ecco però che si troveranno a essere nemici in quella che Flavio ha già citato essere una sanguinosa guerra civile che Roma ha dovuto affrontare e che ora vi citerò non si lega molto al discorso dei pirati ma è solo per spiegarvi la parentesi politica e poi appunto la morte di Pompeo com'è che Pompeo si è inimicato Cesare quindi praticamente condannandosi a morte quando Cesare ve lo ricorderete completa la campagna di Gallia e quindi diventa praticamente una persona molto potente e anche da un lato molto ammirata ma da un l'altro lato anche molto invisa soprattutto fra i rappresentanti del Senato dell'aristocrazia senatoria ecco che praticamente infatti il Senato chiede a Cesare datti una calmata abbandona i poteri proconsolari Cesare ce lo ricordiamo tutti il dado è tratto cosa fa affronta Roma era morto comunque crasso nel 53 avanti Cristo quindi non c'era nemmeno più il triunvirato con Pompeo e Pompeo era fra quelli che spingeva perché Cesare abbandonasse i poteri proconsolari Cesare attraversa in armi il rubicone quindi il confine che è passato in armi diceva io sono nemico di Roma e quindi inizia una guerra una guerra fra Cesare e Roma fra i cesariani e Roma fra Cesare appunto il sistema repubblicano e praticamente Pompeo diventa a questo punto come fu difensore dei pirati no scusa magari difensore di Roma contro i pirati in questo caso è difensore di Roma contro i cesariani e c'è una guerra tra l'altro narrata in maniera magistrale in un'opera bellissima e molto famosa che è la Farsalia o il De Bello Civili di Marco Anneo Lucano stiamo parlando di un poeta di un artista intellettuale che era nipote di Seneca e infatti anche egli si è trovato a vivere a lavorare in quel bel clima che si respirava sotto Nerone forse forse un po' ingiustamente anche rappresentato in maniera troppo brutale poi dalla storia però insomma di sicuro non era molto facile quell'epoca Lucano si trova appunto ci regala appunto la Farsalia nella quale ci racconta la guerra civile a posteriori e quello che è accaduto fra Cesare e Pompeo in particolar modo la battaglia di Farsalo che è quella dove i cesariani praticamente hanno una vittoria schiacciante e vedrete poi questa divagazione ora che sto facendo dove non ci sono pirati ma sarà molto importante perché poi parleremo di cosa è accaduto al figlio di Pompeo dopo la battaglia di Farsalo quindi ripeto battaglia di Farsalo cesariani e Pompeiani e i cesariani hanno la meglio tra l'altro Lucano ci dipinge un Giulio Cesare diverso da come poi è passato alla storia anche come uomo mite come uomo comprensivo ce lo dipinge come un uomo crudele assetato di sangue che lascia i nemici così senza onori funebri impasto alle belve impasto agli avvoltoi vedo un po' di propaganda tutto questo c'era un po' ha dato la sua visione diciamo e racconta tra l'altro Lucano anche la morte di Pompeo che aveva cercato rifugio inseguito braccato innanzitutto questo è interessante si era fermato inizialmente in Cilicia ha detto la Cilicia l'abbiamo nominata poco oggi fermiamoci in Cilicia poi chiede aiuto al faraone in Egitto però il faraone temendo la vendetta di Cesare nell'ospitare appunto rido amaramente perché fortunatamente ora non ci sono più questi politici che in nome di accordi fra di loro fanno cose inumane però il faraone all'epoca in questa epoca antica brutale organizzò praticamente l'assassinio di Pompeo tradendo le sue speranze di trovare in Egitto in realtà un porto sicuro e Pompeo viene decapitato e ucciso e vedrete ripeto per ora non ci sono pirati di mezzo ma vedrete cosa accade al figlio di Pompeo che decide di vendicarsi ma vedremo dopo come per quanto riguarda i pirati Pompeo però prima appunto di mimicarsi Cesare trovò nemici altrettanto facili da gestire era uno che amava le battaglie facili gli piaceva vincere facile diceva prima di Cesare combattiamo un po' i pirati che abbiamo visto erano una piaga terrificante abbiamo notizia fra l'altro ad esempio da Plutarco di come fosse stata la guerra di Pompeo contro i pirati ma anche di come fosse la situazione della pirateria all'epoca e anche Plutarco e anche le fonti comunque ci dicono che i pirati come diceva anche Flavio non erano ladri improvvisati ma erano signori della guerra un'organizzazione precisa c'era la Cilicia c'era la capitale che era Kragus o Kragos c'erano migliaia di navi da guerra biremi e triremi che loro potevano utilizzare a loro piacimento per le loro sortite talassiche per aiutare il politico di turno in qualche battaglia dove fungevano anche da corsari vivevano riparati da queste coste alte e insidiose e quando potevano si intrufolavano nelle città per saccheggiare depredare i santuari rapire le persone quindi capite bene che la guerra ai pirati fu per Roma lo abbiamo detto spesso un'assoluta priorità molti politici lo abbiamo detto scherzando quando ottenevano un qualche mandato in qualche provincia mi raccomando prima di tutto de bella la pirateria ma come volevo fare una fontana no 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 ecco che i romani decidono di chiudere i conti con i pirati donando a Pompeo il comando supremo e i poteri eccezionali poi Flavio ci darà sicuramente qualche dettaglio in più però è interessante vedere come anche all'epoca si discuteva ma è legittimo in situazione di crisi di emergenza dare a un politico poteri più eccezionali renderlo quindi veramente in grado di poter avere carta bianca quasi su tutto fu anche all'epoca molto dibattuta questa scelta alla fine Pompeo ottenne poteri speciali ottenne il comando di 500 navi da guerra la prima cosa ottenne anche 120.000 fanti e 5.000 cavalieri la prima cosa che lui fece molto interessante ora io faccio una disamina breve poi ripeto Flavio sicuramente andrà più nel dettaglio fu dividere il Mediterraneo in 13 aree cioè fu concepire questo vasto mare come una serie di micro problemi da gestire nominando anche dei regional manager probabilmente per nominare per vederla in maniera più aziendalista e quindi iniziò appunto a ripulire in soli 40 giorni già riuscì a ottenere importanti vittorie sulle coste occidentali del Mediterraneo poi si diresse invece verso l'Oriente si diresse verso i covi dei pirati cilici alcuni vennero uccisi alcune roccaforti piratesche distrutte alcuni vennero perdonati insomma il Mediterraneo sotto Pompeo acquisì un nuovo colore inizialmente quello del sangue delle battaglie ma poi anche più senti che poesia su questa ondata poetica ti dico ma raccontaci meglio questi erano solo dettagli ma noi vogliamo no non erano dettagli era uno sguardo generale noi vogliamo il dettaglio della sciabolata nella pancia della spada anzi nella pancia come si è infilata quanto sangue è stato versato sicuramente tantissimo comunque Pompeo io te la riprendo da qui del discorso della legge speciale eccetera senza ovviamente dare uno sguardo all'attualità perché qua ci impelaghiamo in cose per cui ci ritroviamo la gente che ci bussa a casa pronta a farci la pelle ma noi ci interessa solo di Pompeo che si faceva la pelle a vicenda con i pirati ecco questa legge speciale pensa che assegnava a Pompeo non solo il comando della guerra contro i pirati ma praticamente il comando di tutto il Mediterraneo e per parecchio tempo perché per ben tre anni il potere gli assicurava un controllo assoluto sia sul mare sia sulle coste ecco in un'entroterra fino a circa 70 km ponendolo di fatto al di sopra di qualsiasi capo militare romano oltre a questo gli si dava il potere di scegliere anche i 15 legati dal senato i tuoi regional manager che citavi prima da distribuire appunto nelle principali zone di mare e poi anche il non piccolo vantaggio di prendere dalle casse del tesoro pubblico tutto il denaro di cui poteva aver bisogno inoltre gli venivano anche affidate ben 200 navi armate ed equipaggiate di tutto punto sembra forse un po' troppo per dare la caccia a dei semplici pirati è come non lo so come l'idea che magari si può avere rispetto a Roma contro i pirati è un enorme stato repubblicano classico contro una banda di scappati di casa invece no il problema è che non c'era nulla proprio di semplice o di scontato per quanto riguarda i pirati della Cilicia abbiamo approfondito bene l'argomento nello scorso episodio però ecco per riprendere un po' quel discorso possiamo dire che anzitutto citare un nome a caso della storia romana Plutarco che racconta che le navi dei pirati avevano raggiunto certamente più di mille unità al termine della prima guerra mitridatica e che avevano saccheggiato occupato almeno 400 città e lo storico a piano di Alessandria li descrive così in principio i pirati si aggiravano con un paio di piccole imbarcazioni preoccupando gli abitanti della zona come fossero appunto dei latri protraendosi la guerra prima guerra mitridatica divennero sempre più numerosi e costruirono navi più grandi il fatto di avere grandi guadagni non li portò a smettere di compiere atti di pirateria e quando Mitridate fu appunto sconfitto e chiese la pace per ritirarsi dai territori conquistati i pirati persero i mezzi di sussistenza e il paese che di base li supportava caduti in miseria estrema decisero di utilizzare il mare al posto della terra ferma in un primo momento utilizzavano imbarcazioni più modeste poi si attrezzarono con biremi e triremi navigavano in vere e proprie squadriglie sotto la guida di capi pirata che erano come generali di un esercito hanno occupato una città non fortificata e hanno abbattuto le mura delle altre catturate dopo regolari assedi e saccheggiandole hanno portato via i cittadini più ricchi presso le loro sedi nascoste tenendoli in ostaggio e chiedendo dei riscatti hanno disprezzato l'appellativo di ladri definendo le loro prede come premi di guerra avevano anche incatenato artigiani a svolgere dei lavori per loro portando continuamente materiali come legno ottone e ferro per rinforzare le proprie forze sempre di più insomma questi pirati cilici li avevamo lasciati sconfitti nello scorso episodio li troviamo dieci volte più potenti oggi contro pompeo come abbiamo come ha citato il nostro storico a piano di alessandria loro rigettavano l'appellativo di ladri anzi si paragonavano proprio a dei re dei tiranni dei generali e credevano che uniti sarebbero stati invincibili costruivano grandi navi ogni genere di armi e in cilicia possedevano pure delle fortezze con torri e roccaforti e intere isole in tutto il Mediterraneo per far fronte appunto a un nemico tanto agguerrito ecco spiegato il motivo perché Pompeo aveva ricevuto dei poteri così enormi per la Repubblica Romana e li utilizza al meglio sviluppando una strategia molto complessa e piuttosto inedita per l'epoca come è accennato lui divide l'intero bacino del Mediterraneo in diversi distretti e assegna a ogni distretto un certo numero di navi e un comandante praticamente è un rastrellamento di tutto il Mediterraneo poi con le sue forze distribuite quindi in ogni settore di mare infestato da flotte pirata comincia a inseguire il nemico prima in occidente riuscendo a scovare tutti i vari quartieri generali dei pirati nel Tirreno nel Mar Libico in Sardegna in Corsica in Sicilia a catturare un notevole numero di navi nemiche e tutto questo in soli 40 giorni tu pensa che i poteri gli erano affidati per tre anni lui poi si sposta a oriente e arriva a stringere da sedio la stessa Cilicia attaccando di persona con le sue 60 navi migliori il nostro Plutarco ci racconta che Pompeo adottò tra l'altro il metodo Woods Rogers antelitteram offrendo appunto il perdono alle bande di pirati pronte ad arrendersi ai romani spingendo molti pirati cilici a prendere la famiglia scappare dai comandati e consegnarsi proprio a Pompeo in cambio di un'amnistia e un trattamento umano che non era proprio scontato affatto all'epoca in tempo di guerra non è che c'era la convenzione di Gilevra le bande dei pirati più numerosi e potenti si erano rifugiate con le loro famiglie e i loro tesori in alcune fortezze cittadelle fortificate nei pressi dei monti del Tauro un po' come era successo con Vatia nello scorso episodio non lo ricordi attesero lì in Cilicia l'arrivo di Pompeo con la loro flotta più potente ma furono rapidamente sbaragliati sia in mare che a terra durante l'assedio che susseguì alla battaglia navale alla fine i pirati decisero di inviare ambasciatori al Pompeo e a rendersi insieme alle città ribelli a tutte le isole sotto il loro controllo che tra l'altro era un buon vantaggio perché erano spesso molto difficili da prendere d'assalto quindi possiamo dire che la grande guerra alla pirateria di Pompeo si conclude in meno di tre mesi con la consegna di tutte le navi pirata rimanenti e la cattura di tutti i pirati fuggiaschi catture che ammontavano a più di 20.000 persone e per non contare poi le vittime tra i pirati che ammontavano a più di 10.000 che per l'epoca erano numeri enormi insomma Pompeo diventa la nuova superstar della Repubblica Romana e viene spedito come ormai sappiamo anche lui a combattere l'indomito Mitridate che come al solito gli era venuto in mente di andare a minacciare Roma un'altra volta quindi bravo Pompeo sfortunati i pirati che in qualsiasi mare decidono di infestare in qualsiasi epoca incontrano sempre il comandante Zelante pronto a liberarsi di loro diciamo che come hai detto tu comunque anche gli interventi nel Mediterraneo di Pompeo poi sappiamo Pompeo ha avuto ben altri tipi di problemi da risolvere soprattutto con i cesariani con Cesare e i cesariani però non per questo vuol dire che i pirati erano storia passata cioè non è che Pompeo è passato ad altri nemici perché i pirati ormai erano un capitolo chiuso lo abbiamo detto i pirati sarebbero tornati a essere un problema e sarebbero tornati a essere un problema proprio anche per Roma e quindi insomma questo ci fa sperare sul fatto che la radice della pirateria sia sempre difficile da estirpare se Pompeo avesse saputo che nel 2022 DC ci sarebbero stati due che parlavano ancora di pirati dice ancora ma io li ho estirpati no la pirateria continua e Radio Pirata in questo ne è complice quindi fate qualcosa come abbiamo detto l'anno scorso scrivete alla Royal Navy fermateci scrivete qualcosa fermateci bravo scusa ti ho interrotto mentre parlavi di Mitridato mentre io parlavo ha fatto la quarta guerra non c'è modo proprio di di arginare i pirati questo ormai lo sappiamo perché si venivano sconfitti e poi tornavano poi venivano sconfitti e tornavano sotto altre forme questo lo stiamo vedendo in queste puntate in epoca classica ma i pirati esistevano ancora prima di Roma e della Repubblica Romana e hanno continuato a esistere esistono tuttora quindi insomma si tratta di un mondo interessante a cui vale la pena dedicare stagioni su stagioni comunque torniamo alla nostra storia e questa è proprio la storia con la S maiuscola insomma le guerre mitridatiche arriviamo a Pompeo sconfitti i pirati torna torna vincitore a Roma nel frattempo però Mitridate ha deciso di darsi da fare un'altra volta come in ogni trilogia che si rispetti la terza guerra mitridatica è quella decisiva Silla vecchio dittatore di Roma e vecchio nemico proprio di Mitridate muore nel 78 avanti Cristo il nostro sovrano del ponto ne approfitta selvaggiamente per dedicarsi quindi al suo hobby preferito quello di mandare fuori di testa la Repubblica Romana lo fa stavolta stimolando il suo genero che era il re dell'Armenia e lo spinge ad invadere la Cappadocia che era una regione non proprio indipendente diciamo associata alla Repubblica Romana nel frattempo però dall'altro lato del Mediterraneo in Spagna un tale governatore Sertorio decide di farsi il suo senato e staccarsi da Roma e dichiarare l'indipendenza inutile dire che Mitridate e Sertorio si intesero subito dove avevano una passione in comune e unirono le forze per attaccare Roma con quella che doveva essere una manovra a tenaglia dai due fronti europei fu durante questa guerra che Mitridate conquistò la Ciricia una altra volta e rinverdì ancora una volta la tradizione piratesca cosa che gli venne in aiuto mica male visto che durante una tempesta in mare furono proprio i pirati a salvargli la vita la prima fase della terza guerra Mitridatica fu caratterizzata da diverse battaglie ovviamente con risultati alterni tra Mitridate e il generale romano Lucio Licinio Lucullo che è uno scioglilingua di nome ma vabbè incaricato di sconfiggere definitivamente questo vecchio nemico di Roma ma forse un po' troppo incline alle ambizioni personali cosa che gli costò più volte il favore delle truppe e infine pure quelle del senato che decise di richiamarlo a Roma e di spedire al suo posto neo Pompeo Magno che aveva appena sconfitto i pirati alleati tra l'altro di Mitridate stesso Pompeo cercò subito l'azione diplomatica bisogna dire propose a Mitridate la resa perché in passato sta cosa aveva funzionato ma stavolta il sovrano del punto la rifiutò a questo punto quindi Pompeo decide di stringere un accordo con i parti ricorderai il classico avversario dei romani in tutte le epoche e praticamente spinse i parti ad invadere l'Armenia e tenere occupato Tigrane il sovrano dell'Armenia che come abbiamo detto era genero alleato di Mitridate Mitridate stesso fu sconfitto una prima volta da Pompeo sulle Ofrate per poi ritirarsi nella Colchide la regione dell'odierna Georgia più o meno dopo che l'Armenia occupata dai parti gli rifiutò aiuto per non inimigarsi un'altra volta i romani a questo punto Mitridate tentò l'azione definitiva pensa che ormai ci aveva 70 anni suo dente avvelenato con i romani ancora in se l'era tolto quindi decide di organizzare l'invasione dell'Italia l'obiettivo era quello di riunire tutti i popoli barbari del Mar Nero settentrionale e del Danubio per fare questo si installa nel regno del Bosforo dove si approfitta di una situazione politica più che mai instabile a causa di un voto di potere che lui stesso va a colmare il problema è che nel suo tentativo di servizi dei barbari lui deve instaurare un regno di violenza e di terrore praticamente che riesce solamente a inimigarsi tutte le città greche quindi se da un lato a Pompeo alle Calcagna i vecchi alleati che non lo supportano più le province greche in rivolta tra l'altro Mitridate viene anche abbandonato da suo figlio Farnase che si mette alla testa dei rivoltosi greci a questo punto lui perde pure il supporto dell'esercito che decide di seguire Farnase e il mai domo Mitridate non resta altro da fare che suicidarsi nel 63 avanti Cristo piccola nota a margine dovette chiedere a uno schiavo di finirlo perché Mitridate era immune ai veleni a causa di quelle cose politiche che molto spesso i sovrani classici facevano notri dalla tenera età si abituavano ai veleni per essere immuni in futuro ecco qui che invece un veleno gli avrebbe fatto comodo dovette ricorrere all'aiuto di un servo quindi a questo punto Pompeo non solo riesce a sconfiggere i pirati riesce a distruggere Mitridate che era sta spada di Damo che i romani avevano sul groppone da 25 anni sottomette l'Armenia stabilisce una tregua duratura con i patti insomma un'altra volta la superstar mondiale della Roma antica la vittoria su tutti i fronti pure quelli isperati però abbiamo parlato di Pompeo contro i pirati ma mi sa che sta storia non finisce qui non finisce qui e qua caro Flavio ringraziandoti per la parentesi storica che hai fatto dove in puro stile radio pirata abbiamo anche riso delle sciagure di Mitridate che ci dispiace però vedere che alla fine si è tolto lui di mezzo da solo ha fatto un po' sorridere in maniera macabra però però non finisce qui e ora inizia la parte peraltro cari sceneggiatori hollywoodiani ascoltateci bene perché questa storia merita perché la pirateria alla morte di Pompeo ritorna forte e vigorosa grazie a al figlio di Pompeo il pirata figlio del cacciatore di pirati questa storia straordinaria si scrive da sola tra l'altro Sesto Pompeo è un po' un corsaro nero anteliteram uno che in nome della vendetta per l'onore della propria famiglia dei propri familiari uccisi lui decide di darsi alla pirateria e quindi abbiamo triggerato di nuovo gli amici salgariani che salutiamo perché quando io vi ho raccontato prima la storia di Pompeo della battaglia di Farsalo di Pompeo che perde contro Cesare e muore non era solo per presentarvi l'epoca e il personaggio ma anche per dirvi che il figlio di Pompeo Sesto Pompeo il figlio più piccolo di Pompeo e della sua terza moglie Mucia Terzia decide di vendicare la morte del padre ovviamente diventa un nemico dei cesariani Sesto Pompeo nasce nel 67 muore a Mileto nel 35 è stato un militare romano ma è stato più che altro un pirata romano protagonista della fine della storia repubblicana abbiamo visto quindi Pompeo viene ucciso da Cesare al termine dai cesariani al termine di questa guerra civile iniziata da quando Cesare aveva nel 49 attraversato il rubicone in armi quando Pompeo muore Sesto decide di unirsi alla resistenza contro Cesare nella provincia d'Africa assieme a lui Cecilio Metello Catone Neuticense il fratello di Sesto Gneo e altri Pompeiani che appunto decidono di iniziare una resistenza forte contro Cesare Cesare potrà avere anche ucciso Pompeo ma non ha fiaccato l'animo né del figlio né dei figli di Pompeo né tanto meno dei Pompeiani però anche il problema Cesare viene risolto in maniera brutale come molte altre cose in queste nostre prime due puntate Cesare viene ucciso nel 44 avanti Cristo vi ricorderete le famose idi famosissime idi di Marz e tutte le pugnalate che gli sono capitate quindi in realtà diciamo Sesto Pompeo ha già la sua vendetta nella disfatta di Cesare e può tornare quindi a vivere una vita tranquilla tutto sembra andare per il meglio un po' come nella storia del grande Pierre che abbiamo raccontato che poi si diede alla pirateria per vendetta però in realtà le cose il destino ha in serbo qualcos'altro per il nostro Sesto perché quando sale al potere un altro triunvirato Ottaviano Marco Antonio e Lepido ecco che questo triunvirato decide di vendicare Cesare sconfiggere gli oppositori di Cesare quindi tutti coloro che sono stati nemici di Cesare anche in passato se la vedono brutta ed ecco che il nostro Sesto il figlio di Pompeo viene inserito nelle liste di proscrizione diventa nemico viene nominato nemico dal Senato e lui cosa fa? si dà a quella vita che il padre aveva combattuto per tutta la sua esistenza alla vita della pirateria recluta una flotta di esuli di proscritti di ex schiavi questo è molto importante perché vi ricorderete che avveniva anche nei Caraibi e di pirati proprio piraci anche diciamo io guarda io non sono né ribelle io sono già pirata di mio va bene vieni sopra e nel 42 avanti Cristo inizia il suo regno di terrore per i Sette Mari occupa la Sicilia la Sardegna la Corsica atti di pirateria ovunque sulle coste in modo tale che tra l'altro è veramente pericoloso un pirata per uno Stato non solo per i danni economici ma pensate anche se devono arrivare dei rifornimenti qualcosa che ti serve anche per la guerra stessa e viene intercettato da una nave di pirati vi cito Velleio Patercolo che ci dice un po' sdegnato da questi pirati un po' li facevano anche ribrezzo a Patercolo ci dice che Sesto Pompeo il Capitan Pompeo a questo punto infestava il mare con atti di brigantaggio e di pirateria e si serviva del bottino per le sue necessità questo è ovvio quello della scorsa puntata attaccavano d'inverno senza vergognarsi di molestare con scorrerie piratesche quelle coste che erano state liberate proprio da suo padre e questo invece è un tasto importante cioè non è importante che attaccano d'inverno queste sono le cose da dire le coste liberate da suo padre vengono ora infestate da un nuovo pirata il figlio di Pompeo tra l'altro Sesto Pompeo ottiene anche alcune vittorie perché è vero che da un lato il triunvirato combatte attivamente in Sicilia contro Sesto perché tra l'altro Sesto via via che si muoveva accumulava nella sua flotta tutti coloro che erano stati nemici di Cesare tutti coloro appunto che si volevano unire a questa causa di ribellione noi ve l'abbiamo sempre detto per darsi alla pirateria serve anche una causa una crociata in nome della vendetta di qualcosa ne abbiamo parlato anche nel nostro libro e Augusto e il triunvirato cercavano di combattere Sesto addirittura Augusto nelle geste dice mare pacavi a predonibus ho pacificato il mare liberandolo dai pirati ma non è vero niente perché Sesto in realtà combatte ancora più forte di prima addirittura va un po' tipo mitridate va un attimo in confusione per mania di grandezza dice per forza sono così forte per i sette mari io sono discendente di Nettuno certo punto anche lui era un po' diventato uno spostato però di sicuro assume l'appellativo di Magno Capitan Sesto Magno il pirata come suo padre Magno quindi appunto per darsi questo appellativo di grandezza viene però cari miei sconfitto anche a causa di un tradimento vedi a volte come proprio la storia ci regala questi episodi spiacevoli di qualche talpa inserita lì che tradisce il nostro protagonista perché Ottaviano riesce a sbaragliare Sesto anche grazie al tradimento di Mena che era un uomo della flotta di Sesto perché ormai aveva appunto costruito una flotta stessa che si era schierato con Ottaviano e che quindi gli aveva consegnato anche le navi della molte navi della flotta e lo aveva aiutato a riconquistare Corsica e Sardegna Sesto braccato anche a causa di questa grave perdita di questo tradimento fugge in Oriente viene catturato a Mileto e viene giustiziato senza processo tra l'altro atto illegale perché Sesto era cittadino di Roma tra l'altro questa cosa crea anche delle scintille all'interno del triunvirato perché Ottaviano se la prende con Antonio perché era stato un subordinato di Antonio a diciamo perpetrare questo omicidio nei confronti di un nemico che però doveva subire un giusto processo non essere ammazzato così Ottaviano si scagliò contro Antonio e fra i due appunto ci fu dell'astio incrementato proprio da Pompeo da questo pirata che aveva causato scintille anche all'interno del triunvirato e quindi si chiude il sipario sulla famiglia di Pompeo che aveva combattuto i pirati e alimentato allo stesso tempo i pirati del Mediterraneo si chiude la storia di questo pirata che era stato un ribelle che aveva combattuto per motivi politici ma anche per vendetta e che è anche qui una figura borderline è stato un criminale che ha causato problemi che ha anche creato scintille nel triunvirato che quindi va detestato oppure come ce lo scrive a piano Sesto è stato un salvatore è stato il capo dei ribelli che volevano sfuggire alle ingiuste proscrizioni e questo però è un'etichetta è un dubbio che possiamo attaccare sulla schiena di ogni pirata eroe Robin Hood dei mari oppure vile pendaglio da forca forse non lo sapremo mai ma forse proprio per questo ci affascineranno sempre anche dall'epoca classica come tutte le figure ambigue i pirati sono i più ambigui di tutti e tra l'altro proprio perché sono ambigue proprio perché affascinanti noi ne continueremo a parlare perché la season 5 cari miei è appena cominciata appena cominciata alla prossima Lever Johnny Lever Oh Lever Johnny Lever For the wait is long and the winds don't blow and it's time for us to Lever to Lever to Lever to Lever to Lever of the to Lever Grazie.